Professor Baccaglini, il Plana di Torino si arricchisce di un nuovo indirizzo? Sì, siamo molto contenti perché vogliamo far sì che tutti possano usare i nostri laboratori e quindi il liceo scientifico Opzione Scienze Applicate può sicuramente giovare a questi laboratori e i laboratori possono giovare al liceo. D'altra parte vogliamo rimanere un istituto professionale e vogliamo arricchirci con un'opzione che sicuramente può aiutare a attirare ulteriori studenti in un territorio vivo, eterogeneo e che ha voglia di fare cose belle sul territorio.